In questi giorni si susseguono incessantemente notizie di disservizi nel settore idrico integrato del comune di Castellabate, a rendere noto quanto segue il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano. Continue interruzioni di acqua che interessano l'intero territorio, tutte mancanze inaccettabili, ingiustificabili e insopportabili per un comune turistico dove i servizi dovrebbero essere efficienti proprio in questo periodo dell'anno. Come si può pensare di puntare ad un turismo di eccellenza, di qualità, se non si garantiscono i servizi minimi ed essenziali di civiltà? E guardate che il passaparola tra gli ospiti che vivono queste situazioni è lo strumento più efficace, in questo caso, dell'eterio per il nostro territorio, sottolinea il consigliere. E la CONSAC ha peggiorato di molto la situazione, una società totalmente inadeguata per gestire il nostro comune, una società che pretende il pagamento di bollette assurde e poi non garantisce neanche l'essenziale, continua Maurano. A Castellabate si arriva a pagare l'acqua 2,10 euro a metro cubo. Proprio per questo motivo non dovrebbe mancare neanche un minuto, neanche per sbaglio. La nostra battaglia per mandare via questa società è fondata su evidenze incontrovertibili. Ma la CONSAC non è piovuta dal cielo. La CONSAC è stata scelta, voluta e confermata dall'amministrazione Spinelli, dall'intera maggioranza consigliare. Questa vergogna, conclude il consigliere d'opposizione Luigi Maurano, ha dei nomi e dei cognomi ben noti, gli stessi che si propongono per altri ruoli istituzionali e che si elogiano a vicenda con post melodrammatici. I componenti della maggioranza, quattro anni fa, si candidarono con lo slogan Castellabate che cresce. A consuntivo possiamo dire, senza paura di essere smentiti e con dati alla mano, che ad essere cresciute sono solo le tasse e i disservizi.